Quest'uomo Luca di origine Sinti ha 32 anni, da un anno e mezzo convive in un camper con Maria, una ragazzina di 13 anni. Eccoci, parliamo di questo problema, grosso problema, con Razim Azovic, buonasera, con Diana Pavlovich, buonasera, e con Daniela Santanchè, Fratelli d'Italia, buonasera onorevole. Allora, la questione è molto semplice, per la legge italiana i rapporti sessuali tra un maggiorenne e un minorenne, cioè uno che ha meno di 14 anni, rientrano nella violenza sessuale. Questa è la legge italiana, dopodiché si può discutere se sia giusta, ingiusta, se si possa fare, di tutto. Però questa è, ad oggi, quello che abbiamo davanti. E allora, si può accettare che sia imposto per una cultura, spacciandola anche un po' per fatto culturale, una cosa del genere? È giusto che la accettiamo tranquillamente, questo è il tema. Che mi dice Pavlovich? Non è un tema, non è solo per la legge italiana che una cosa del genere rappresenta un reato contro un minore, contro una bambina, ma è in tutto il mondo civile che è così. Lei ha detto bene, questa persona sta spacciando per la cultura Rom un atto volendo giustificarsi, probabilmente, cioè nel senso che è molto anche comprensibile uno che viene messo nei guai per un reato che ha fatto, cerca di giustificarsi trovando in questo caso una scusa, non fa parte della cultura Rom questa cosa qua. non è parte della cultura, non succede, no, neanche della cultura Sinti, non succede normalmente. E non bisogna parlarne come se fosse la nostra cultura, perché è un uomo adulto, per noi un trentenne è già vecchio. Però quello che le voglio dire, Diana Pavlovich, è che non l'ho detto io, l'hanno detto loro. Sì, ma loro mentono, questa non è la cultura, né Rom né Sinti, mentono per giustificarsi, sfruttare i voti. La sua posizione è chiara. Onorevole Santanchè. Io voglio stare in numeri, lo voglio dare soltanto dei dati, che non sono i dati miei o di Fratelli d'Italia, nelle baraccopoli di Roma, 77% dei matrimoni in queste comunità sono precoci. Abbiamo battuto un record, perché sino adesso il record mondiale era detenuto dal Niger, invece adesso, nelle baraccopoli di Roma, siamo riusciti a raggiungere il 77% dei matrimoni precoci. Io trovo questo atteggiamento molto razzista, perché non riesco a capire se loro vogliono delle leggi speciali. In Italia, se un uomo, se lei del debbio, domani mette in cinto una ragazzina di 13 anni, lei sa dove va a finire, no? In carcere. Giustamente. In carcere. Poi noi non sappiamo oltretutto la volontà di quella ragazzina. Io voglio dire che oggi, grazie al del debbio, ai mezzi di comunicazione, è venuto fuori questo scandalo. Ma questo è uno del 77% dei matrimoni precoci. Perché è normale, come io ho sentito a Serire da Roma, che andare a rubare è normale. Non lo ho detto io. Un attimo che ho la mamma della bambina. Non l'ho detto io. Allora, ho la mamma della bambina 13enne. Sentiamo da lei, perché questo è fondamentale. Allora, è collegata insieme a Ilaria Mura. Ciao Ilaria. Sì, buonasera, buonasera Paolo. Siamo appunto nel campo nomadi, qui alla periferia di Cittadella, in provincia di Padova. E con noi c'è Marsi, appunto la mamma della 13enne rimasta incinta, che partorirà fra poco. Ecco, come è possibile? Vuole spiegare come è possibile una situazione del genere? Beh, è possibile, perché noi ci siamo sempre sposati sempre presto. Non si sente? Allora, dovete aumentare il volume in studio e fuori. Lo dico alla regia. Dai, svelti. Un attimo solo, sfrutto questo momento per farvi vedere questa clip. Prego, mi scusi, arrivo subito. Sua figlia è rimasta incinta a 12 anni? Sì. È una bambina? 13 anni. Ma a 13 anni ce li ha adesso? 13 anni. Quando li compie, 14? 13, compre il maggio. Maggio del prossimo anno? Sì, sì, maggio. E quindi a 13 anni è per cui rimasta incinta a 12? Ma tua figlia giocava ancora con le bambine? No, 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 no. Non gli piaceva mai giocatore, mai. Non gli piaceva tanto le bambine. Guardava i cartoni animati? No, vedeva solo i film. Non è un po' troppo giovane per avere un bimbo? No, ma noi abbiamo una cultura che i nostri bambini che ci hanno proprio dato queste cose, che noi ci sposiamo presto. Quando hai avuto il primo figlio? 13 anni e mezzo, il mio figlio più giovane. Come fa tua figlia per andare a scuola? Adesso non l'abbiamo mai mandata a scuola, perché avevamo tanti problemi di famiglia che ci mandavano sempre via dei comuni. Quindi tua figlia non sa né leggere né scrivere? Non sa un po' leggere, ha il suo nome, il suo cognome e quanti anni ha. Speriamo che ci la portano, che vogliamo vederla. Ecco, io non ho paura di niente, però ho un po' paura che non vediamo più nostra figlia. Prego, Ilaria. Sì, ecco, appunto, stava parlando Marsi, la mamma della tredicenne rimasta incinta e che partorirà tra poco. Ecco, la gente si chiede a casa e anche in studio come sia possibile. Tua figlia è una bambina, Marsi. Sì, mi rendo conto che sia una bambina. Anche io non mi ero conto che, io mi sono sposato con mio marito, avevo tredici anni e mezzo, però non avevo conto. Però noi siamo contenti così, come io ho avuto i miei bambini, undici bambini, e io mi sono d'accordo così con anche mia figlia. Non la credo una bambina, ma la credo una grande donna. Ma non ha consapevolezza a tredici anni. Ma noi siamo fatti così. Sì, signora, mi scusi. Mi sente la signora? Mi sente? Sì, sì, ti sento. Buonasera. Volevo chiederle questo. Sì, sì. Senta, ho avuto due figli anch'io, che ora sono grandi. A tredici anni, onestamente, uno è in una fase del proprio sviluppo che non è adatto per fare un bambino. Lo dico perché è una cosa normale pensarla come quello che sto dicendo io. Cioè, tredici anni si gioca ancora con le bambole, non con i bimbi. Beh, per me, anch'io avevo tredici anni e non giocavo più con i bambini, ma giocavo con gli uomini. Mi piaceva con gli uomini giocare. Questo è il mio problema, Zera. Anche mia figlia vuole fare così. Senta, quanti anni ha il signore che ha fatto... E non ho niente da dire. Quanti anni ha il signore che ha messo incinta a sua figlia? Chi? Ha trentasei anni. Trentasei anni. Senta, ma sua figlia, in qualche modo, ha manifestato a lei, a questo signore, la volontà di fare un figlio? No, io non so, perché ci volevano tanto bene, se volevano. Io guardavo tanto che ci volevano tanto bene. Per questo problema non avevo niente con lui e anche con mia figlia. Cioè, ma questo signore frequentava sua figlia da tanto tempo? Sì, perché era nostro amico e veniva sempre qua da noi a parlare. Ecco. E poi che faceva? Usciva, portava sua figlia al ristorante, al bar, uscivano insieme, andavano a ballare. Che facevano? Sì, sì, non gli mancava niente. Non gli mancava niente per lui, perché era sempre a casa con mia figlia con me. E lui veniva, andava, veniva con sua moglie e dopo mi lasciava qua da me, mia figlia, come tutte le mamme e come tutti i fidanzati, i mariti. Con sua moglie di chi, scusi? Non gli mancava niente. Chi aveva una moglie? Non gli mancava niente, mia figlia. Sì, ho capito. Lei ha detto, veniva qua con sua moglie. Mio marito? Io non avevo... Qual è la mia moglie? Mio figlio, no? È la moglie di mio congenero? Sì, questo l'ho capito. Lo diciamo così. Sì. Poi non so cosa sapete voi fare. No, io non so fare niente. Senti, io dico, io non so fare nulla, soprattutto non so fare queste cose, diciamo. Però mi chiedo come mai, cioè questo signore veniva lì al campo, stava con sua figlia, cosa faceva? Con una bambina di 13 anni la faceva giocare, che faceva? Che giocare? Andavano a spasseggio, in ballera, discoteca. Cosa facevano? Si divertivano come tutti gli altri ragazzi. Cioè uno di 13 anni, con uno di 36, va in ballera e si divertono, va in discoteca. Silenzio in studio. Anche noi... Oh, ma stasera... Cosa dire è che loro fanno coincidere, Paolo, perdonami. Sì, prego. Loro fanno coincidere la maturità forse con l'età dello sviluppo, perché lei mi ha detto mia figlia era una signorina, giusto, era già una signorina. Eh, ho capito. Eh, ma a una bambina, insomma, possono anche, no, venire le sue cosucce, ma di fatto rimane bambina. Cioè il fisico reagisce in un modo, ma la testa, come dire, è sempre quella di una bambina, deve, come dire, crescere. Però noi vedevamo proprio che si sviluppava subito, presto, proprio, e dopo dicevo sempre per lei, non è troppo presto per te, non devi sposarti sempre, ogni tanto. Mi dicevo, guarda, sei giovane, no, mamma, ma come hai fatto te, e faccio anch'io come tu la tua vita hai fatto. Ho capito. E lei è contenta che sua figlia abbia un bambino a 13 anni? Sì, certo, e voglio venire anche nonna, vederlo anche. Ecco, vuole anche vederlo. Sa che non glielo fanno vedere, no? Eh, purtroppo mi sa di sì. Eh, perché c'è un reato di mezzo, signora. Io non lo vedo mai più, magari, chissà. Eh, lo so, lo so, queste cose, sì. Ah, perché a me, quando io ho avuto un bambino prima di 13 anni, non mi hanno dato mai niente, come mai queste cose? Eh, si vede che non lo sono venuti a... Si vede che non lo sono venuti a sapere, signora. Se l'avessero saputo, l'avrebbero fatto anche con lei. Sono dimenticati, magari, di me, perché... Perché non sapevano il mio nome, quanti anni avevo, allora. Strano, perché quando vai all'ospedale, dicono subito, quanti anni hai, quanti anni hai. Che ospedale è quello di Cittadella, allora? Niente. L'ospedale di... ma, possiamo stare, va? Però, signora, si cresce, ci si confronta, ci sono degli scambi. Lei, fra l'altro, mi diceva, sono nata in Italia, quindi sono sinti, italiana. Sua figlia è nata qui, quindi dovrebbe conoscere le leggi italiane, no? Sì, certo, conosco la legge italiana, ma come questo ospedale di Cittadella non sapevo niente, come mai hanno preso via mia figlia senza sapere niente, senza un senso, senza niente, dire alla mamma, guarda, portiamo via tua figlia e senza dire niente. L'hanno portata via senza dire una cosa, niente, una telefonata o un cellulare, chiamare... Sì, signora, scusi, ma questo... Scusi, signora, questo qui è il meno. Il punto, il problema non è questo, che l'abbiano portata via, il problema è che abbia fatto un figlio a 13 anni, questo è il problema. È perché anche altre persone fanno queste cose, come mai non dite niente anche alle altre persone? Non è che se sono in tanti a sbagliare uno non sbaglia. Come mai? Non state parlando niente? Cioè, quali cose? Me le dica, quali cose? di cui non parliamo. Di cosa non parliamo? Che l'hanno portata via, che cose, che cose, non so a me che cose. Le avete portata via, senza consenso mio, senza niente. Nei dottori, nei carabinieri di Cittadella, nessuno lo sapevano. E sono andata via come un'ammata, su e giù due mesi che mi manca mia figlia. Vai a vederla, mai niente. E ma perché in Italia, signora... Vai a sentire, guarda, mamma, sono qua, mamma, guarda. Un rapporto fra un maggiorenne e uno che ha meno di 14 anni. In Italia non c'è niente qua, solo la legge, basta. No, non interessa. Ma per me non è reato. Per me non è reato. Per voi è un reato. Non per me, però. Eh, ma la legge è uguale per tutti, signora. La legge è uguale per me e per lei, signora. Si ha capito questo concetto. Sì, la legge è per tutti, lo so, ma non così, però la legge è per tutti. Legge troppo questa legge, va a finire così. E suo marito cosa dice di questa cosa, di questa situazione? Mio marito? Mio marito dice stessa cosa che dico anch'io. Stessa roba, diciamo. Quindi siete d'accordo? Questa roba dice mio marito e dico anch'io. E i fratelli della bambina cosa dicono? La mia si è sposata. Anche loro sono contenti, anche i fratelli. Anche loro sono contenti. Tutti contenti. Ho capito. Sì, sì. Quindi voi siete contenti. Tutti contenti, la sua famiglia è contenta. Bene, perché la vostra tradizione è così. Quindi che ci sia la legge poi che dice che è un reato, a voi, diciamo, non ve ne fotte niente. Questo è il punto, no? È così? Ho capito. Sì, sì, non ci sia interessa niente. Ecco, questo è un fatto che succede in Italia. Che una bambina di 13 anni viene messa incinta da uno di 36 perché è giusto così, perché la tradizione di quella famiglia dice che è giusto così. Quindi, poi, e che quindi probabilmente questa cosa continuerà. Le altre figlie minorenni? Io non ho più minorenni, avevo solo mia figlia, basta. Avevo solo una minorenne, basta. Gli altri sono tutti maggiorenni? Sì, un anno e mezzo, sì, un piccolo. Sì, sì, maggiorenni. Uno di un anno e mezzo maschio o femmina? Sì. No, femmina. Vuoi elencare i nomi dei suoi figli e quanti anni hanno, signora? Insomma, di tutti non mi ricordo tanto bene. Uno a 23 anni, uno a 21, uno a 23, 11 bambini, uno a 4, uno a 5, uno a 10, uno a 8, e uno a 17 anni e uno a 14. Ho capito. Uno si chiama Justin, Axel, e uno si chiama, aspetta, va bene, va bene, ma... Tutti i nomi non mi ricordo perché ne ho tanti. Non importa che me li dica tutti, va bene così. Va bene, grazie signora, grazie molto. Ma io spero che li portino via gli altri bambini del debbio, perché io se facessi vivere i miei figli in mezzo ai topi, in quelle condizioni, senza mandarle a scuola, me li tolgono i miei figli. Io veramente faccio un appello ai servizi sociali. Questa mamma non è in grado di stare e di educare e di mettere sulla retta via dei bambini. Non è possibile. A questa mamma devono togliere tutti i bambini. Mi senti un attimo? Guardate. Ehi, tu come ti chiami? Mi senti un attimo? Sì, prego. Perché non ti guardi a casa tua, piuttosto di parlare solo delle nostre cose? Io mi guardo a casa mia. Io a casa mia, signora, mi guardo. Posso dire una cosa, la signora? Mi guardo a casa mia. Perché no, io non ho ancora sentito una cosa. Cacchi tuoi, capito? Fatti cacchi tuoi, puttana. E questa, questa è la... Però, possiamo dire adesso che la mia domanda è quasi inutile a questo punto. Ora, o chiede scusa, o chiede scusa, oppure se ne va con i suoi undici figli. La signora sta esprimendo un suo parere, l'hanno fatta parlare anche a lungo, non si fa così. Che parere sei quello là? A me non mi piace questo parere. Se non le piace, scusi. Scusi, ora chiede scusa. Ma è una minaccia, ma non si fanno queste cose, signora. Non è una minaccia, cosa faccio? Lei chiede scusa. Onorevole Sant'Anchei, la prego. Dai, non importa onorevole o no. Lei chiede scusa ora. Scusate. Ecco, molto bene. Allora, perché... Scusate, scusate. Perché? Non è mia colpa, perché se non la vedo, è meglio che non la vedo mai quella signora là. Scusate. Perché? Vabbè, ma questo, questo credo... Guardi, ecco, per tranquillizzarla, la cosa è reciproca. Posso solo dire una cosa? Deve essere chiara una cosa. Posso... Cioè, che quello che è successo, cioè il rapporto sessuale, al di là delle questioni tradizioni, non tradizioni, è chiaro che qui uno dice che la tradizione, l'altro dice che la tradizione, qualche sospetto mi viene sul fatto che in quel contesto, in quell'ambiente, un rapporto tra un trentenne, in questo caso dice pure 36 e un tredicenne, non dico che sia la normalità, ma quasi. Mi viene un sospetto, però... Gianni, è pedofilia anche da noi, capisci? Eh, lo so, però vai gliela a dire alla signora, come lo dite a me, vai gliela a dire alla signora e a... Perché quello non è in galera? Perché non è in galera se è un pedofilo, secondo te? Dovrebbe stare in galera. I pedofili vanno in galera. Lo chiedi a me. Scusa, tu chiami, però... La signora... Finisce e poi sentiamo. No, poi chiude. Quello che non esce fuori, chiaramente, è che un rapporto tra una dodicenne, perché all'epoca il rapporto sessuale che ha, come dire, dato vita poi a questa futura, a questa futura, alla nascita di un futuro bambino, aveva dodici anni. È una... Il rapporto sessuale tra un trentenne, maggiore e una di dodici anni, barra tredici, è una porcheria. Punto e basta. È una cosa ignobile. Questo è il punto. Al di là del reato, al di là del reato che mi sembra evidente. Va bene. Invece la signora non lo dice e non lo dice nemmeno. Ma scusa, Cruciani, ti ha detto che lei, la figlia di dodici anni, tredici, era con la madre, quando qualcuno di voi ha chiesto, giocava con le bambole? Questa mamma ha risposto, giocava con gli uomini. E questa è una mamma, è una signora che ha undici figli, sei o sette minorenni. Oggi la nostra preoccupazione deve essere che domani mattina ci sono i servizi sociali che li prendono i bambini e li portano in un posto che sia giusto per la loro educazione, per la loro crescita. Un attimo, ho collegato l'avvocato. Mi interessa il tema, qui c'è una bambina messa incinta a dodici anni da uno di 35. A me mi piacerebbe averlo di fronte. Tu l'hai conosciuto? Ho sentito al telefono, sì, un paio di volte. Cioè, io mi stavo immaginando prima, ora, se io ora da uomo avessi un rapporto con una di dodici anni. Cioè, ma come cazzo fai a fare... Nel suo campo ci sono bambine incinte e piccole? Sì, nel mio campo c'è cose del genere, sì. E mettete incinta le ragazzine a tredici anni? Siamo incinta, non in questo genere come ha fatto lui, però di quarant'anni che si mette una di tredici anni. Voi come fate? Questa è una di tredici, una di quattordici anni, un anno di più, un anno di meno. Cioè, un bambino di quattordici mette incinta... Tredici, quattordici anni? La nostra religione fa così. Cioè, un bambino... Non è da nascondere, non è che è cominciato da ieri, è da anni. Sì, ma uno se fa una cazzata da anni, non è che è più piccola che se la fa... Da secoli che vanno la nostra storia così. Tutte le che applaudite, che applaudite. La nostra storia va davanti tanto da anni, da secoli va. No, noi non andiamo il comune, per esempio, a sposarci. Quindi lei ne... Soltanto... Aspetti, ma nel 2019 lei ritiene giusto che uno di quattordici... Eh, nel 2019 non c'è stato ancora nessun caso tramite questo che ho sentito adesso. No, ma scusa, è normale che uno di quattordici anni mette incinta una di tredici e facciano la famiglia. E noi sì, da noi sì. Da noi sì. Scusa però, posso chiederti una cosa? Allora, se lei ha un popolo suo o così, io non ti posso cambiare il tuo popolo. Giusto o no? La legge, tu ce l'hai, la tua legge. Io ho la mia. Tu ce la tua, io ce la mia. No, no. Non è che stiamo... Aspetta. No, ma ognuno non c'ha la sua legge. No, no, ognuno. Quello che sto dicendo per io. No, no, poi Cruciani c'ha la sua, lei c'ha la sua, lei c'ha la sua. Oh, no, Barri. Eh, però signora, la nostra tradizione non è che va... La Chita l'ha detto che non si può cambiare. Ma si può crescere. Oggi sono le più sveglie di prima. Ma si va a scuola. Si va a scuola. Quelle da anni che andiamo avanti, da anni. Si deve crescere. Da secoli. Allora. Ma si può, da secoli non... Chi sua zia? Si mia zia, da 15 anni. Si mette a sedere. Ci ha, grazie a Dio, tutta la squadra ce l'ha. Si mette a sedere la squadra. Però lei deve sapere che secondo la legge italiana... La legge italiana, questa qui, ha tutti i sensi bene. Chi? Questo caso noi non ce l'abbiamo avuto mai nella nostra vita. Capito, ma anche nel caso suo, secondo la legge italiana, i rapporti sessuali sotto i 14 anni... Allora, se sono i due minorenni che si vogliono bene... Ah, no, è uguale. Sotto i 14 anni possono avere rapporti sessuali. Se si vogliono bene, da noi ci sta. Scusate. No, io non nascondo niente, da noi ci sta. A che vuol dire? Ma cosa dice? Ma lei non legge... Ehi, ce l'ha proprio con me che mi fa così, non è giusto? No, io ce l'ho con tutti quelli... Io sto parlando col signore... No, scusi, io ce l'ho con tutti quelli che ritengono normale... Mi fai sentire Giorgio Tosi. Giorgio, c'è qualcuno? S'è venuta, sì. Me lo ricordo molto bene. A tu aspetta il minimo dettaglio, qualcuno sta... Ma io lo so quando sono venuta nel suo campo. Che fai dico come hai fatto a Gordiani. Io ce l'ho con tutte le persone che pensano che una bambina di 12-13 anni è normale che sia incinta. Io ce l'ho con queste persone. Con tutte. Con tutte. Con tutte. Mamma mia. Tutte. Mamma mia. No, una cosa la devo dire, una cosa la devo dire, eh. Una cosa la devo dire. Non avrei... Cioè... Non avrei mai pensato che di trovare persone che di fronte a telecamere, televisione, eccetera, avrebbero difeso questa scelta. Veramente questo non ho pensato. Lo dico francamente. Perchè andare proprio contro le video. Prego. Prima di tutto, buonasera Paolo. Buonasera. Grazie che ci hai ospitato. Prego, prego. Perchè sono la prima volta che vengo. Prego. La prima cosa che voglio dire è che non esiste, non è esistito mai questa cosa del genere. Che questo da 35 anni va con una ragazza di 13 anni. Non è possibile. La seconda cosa, non è possibile, non esiste. La seconda cosa che voglio dire che è molto importante, perché voi non lo sapete, che ci sono certi ragazzi da 13, 14 anni, sono consapevole. Con chi vanno? Con quale uomo vanno? Sono consapevole. Cioè vanno proprio della loro volontà. Non è colpa dei genitori. Cioè a 13 anni decidono consapevolmente. Consapevole. Cosa cambia? Perché vanno dalla loro volontà. Oh ragazzi, sono tre ore e mezzo che vi sopporto. Vanno con i... State buoni. Ogni ragazzi da 25, 26 anni, 27 anni. Hai capito? Quello che ti voglio dire. Perché è molto importante. Ma lei è proprio convinta di questa volontà. Sì, sono convinta perché ho visto, ho sentito che ci sono queste ragazze di 13, 14 anni. Sto per perdere la pazienza. Sarebbe il caso di dire, di educarle, di dire... No. Invece va bene così. Siccome lo vogliono scegliere, allora bisogna dargli agio. Allora, secondo me il mio pensiero va. Sì. Siccome le ragazze non vogliono sentire, oggi come oggi, non vogliono sentire proprio i genitori. Sì. Madri e padri. E vanno sulla strada loro. Sono loro che vanno... Non dappertutto, eh. No, però... Ci sono anche le famiglie normali. Però in maggior parte sì, le ragazze vanno proprio loro... Ho capito, ma se in una famiglia una dice che vuole avere un rapporto con uno di 27 anni, il padre e la madre, gli possono dire che forse... Paolo! Eh? Lo dico, mia figlia ha 14 anni, volevo dire alla signora, e a meno che io... Sì, ce l'ho avuta anch'io tu, figlia di 14 anni. Chi va nella luna, non mi pare che voglio andare con più. Però magari mi sbagli. Scusami tanto, parliamoci chiaro. In altri modi, che ci sono certi ragazzi di 13-14 anni che vanno con uomini più grandi, non quella situazione di 35-36 anni, che vanno pure per interessi. Parliamoci chiaro. Va bene. Vanno pure con uomini... Sì, ci sono anche quelle che per... Pure per interessi. Ho capito, ma bisogna dirgli che sbagliano, no? Beh, io dico di sì, però... Eh, parla di prostituzione. No, ma non però, bisogna dirgli che sbagliano e basta. Eh, lo so, però, quella situazione, quella del genere adesso, non è successo mai da noi. Mai. Io, ragazzi... Paolo, posso dire una cosa? Domani su Netflix esce questa prima puntata della serie Baby, no? Seconda serie. Seconda, sì, seconda della serie sui Baby Squillo dei Parioli, no? Ora, voglio dire, va bene, cioè, avete ragione. Nel senso che non è... Non è più così da noi. Mia nonna si è sposata a 13 anni. Mia madre si è sposata a 20. Io molto più tardi, ok? Non è tra di noi così. Diana, però, abbiamo due esempi qua. Il signore, che è di una comunità Roma... Ho capito, ma io ti posso portare mille esempi qua, se vuoi. Dipende chi uno invita a parlare, però, scusa. Mica Paolo sapeva che avrebbe detto che ha 13 anni nel suo campo... Scusa, io te ne posso portare... Però fammi finire, per favore. Dovrei comprire qualcosa. No, 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 io... Lei dica... Fammi finire... Non è una cosa da ieri, una cosa da secoli. Fatemi finire, però. Il problema, io penso che c'è un discorso... Quello che diceva la signora è un discorso che non vale nelle famiglie rom. Vale, in generale, secondo me, in questo paese. Ma quello sì, ma quello lo so io. Paolo, se voi guardate i dati delle violenze... Ma parliamo di altro, parliamo di altro. In famiglia, l'anno scorso ci sono stati 6.000 bambini violentati, molestati... Centinaia di volte diceva questa roba qua. E' un altro problema. Ma lo so, ma stasera... Parliamo di genitori che vendono, che combinano matrimoni. La signora che vive lì, quando veniva questo di 36 anni, in quella tendina con la bambina, cosa giocava? Le bambole? Ma questo siamo d'accordo. La mamma non la vedeva. Possiamo un po' allargare. La mamma non la vedeva cosa faceva nella tendina. Non c'è nessuno al mondo. E se prendeva i soldi... Ma io non posso gridare. Ma io non lo so. Ma io sono al mondo normale che può approvare questa cosa. Ma magari quella mamma vendeva quella bambina. Magari quella mamma la vendeva la bambina. Tant'anche, le ho dato ragione. Non c'è nessuno al mondo. Ma allora, non metta insieme delle cose che insieme stanno. Però cerchiamo... Siccome si parla della cultura dei rom e si generalizza... Si, si parla... Ma l'ha detto il signore... No, no, però scusate, scusate. Eh, non è che l'ho detto... Sennò stasera... Prima c'era Laura che generalizzava... Io non generalizzo nulla. Italia è il paese delle prostitute. Io mi occupo, oh santa pace, mi occupo di questa situazione specifica. E va bene. Di questa roba qua. Punto. Io non ho detto... Su questa situazione specifica sono le persone in una situazione, in una condizione sociale, materiale, culturale, che abbiamo visto, non facciamo finta di niente. Questo non è il modello. Capisce? Lei può tranquillamente trovarne altri 300 deficienti, portarli qua, che parlano a nome di qualsiasi cosa. Capisce? Ma non è realtà. E mi dice che è normale così. Questo non è realtà. Io le posso dire che le posso portare 300 mila di altri che si sposano dopo vent'anni, che studiano, vi posso portare i bambini che sono molestati dagli italiani, che sono maltrattati dai fascisti, che non riescono ad inserirsi nelle case. E se sono maltrattati... Ma è così. È così. Sì, è vero. Ci sono state situazioni in periferia di Roma. Ma perché non evita questa donna alla prossima puntata? Io le do i contatti. Questa donna con quattro figli, e ne posso indicare 300 mila famiglie... E tiriamo il pallone... Ma vi interessa di bambini o no? Vi interessa di benessere di bambini o no? Faccio l'interrogazione parlamentare. Ma scusi, ma scusi. Allora basta. Allora... Fermi tutti. Fermi tutti. Io ho condotto una trasmissione al mattino, dove mi sono occupato, qui c'è uno che lavorava con me, ok? Mi sono occupato centinaia di case di maltrattamenti a minori, violenze in famiglia, me ne sono occupato sempre. Perché non si occupa di una famiglia maltrattata dai fascisti? Dai fascisti romani, per esempio. Ma a me che maltratti un fascista, un comunista, per me è uno stronzo, non è qui che cambia. Però scelga lo stronzo giusto, però eh. Scelga però lo stronzo giusto, mi dispiace. Vabbè. Ogni tanto sceglie lo stronzo giusto, perché non si può per tre ore parlare evidente e chiaro. Ma scusi, scusi, le pare un caso di cui non parlare non due ore, 200 ore questo qua. Questo, ma... Eh, dai. Abbiamo però capito. Madonna, ma stasera c'ho tutti i professori. Abbiamo capito. E allora basta, su. Un 200 ore. E che mi viene? Di a me che non mi occupano delle violenze simili nelle famiglie. Mi sono occupato per dieci anni. Ma dai, su. Stasera siete tutti... Che c'è qui? Che c'è? Silenzio. Ti azzitta anche lei. Ci si metta... Oh! La mamma Paolo... Te lo dico io la mamma. Dica, dica signora, dica. Ma io voglio solo dire che qua mi sembra evidente che queste comunità non si vogliono integrare. Perché io vado in un paese e prima cosa ne rispetto le leggi. Questi vengono in Italia perché la vita è comoda, abbiamo reddito di cittadinanza. Un concetto chiaro. Ma non capiscono. No, quello che voglio dire è che... Sì, sì, ho capito, signora. Ho capito. Ma non è vero quello che sta dicendo che non ci vogliamo integrare. Tutti quanti si vogliono integrare. Non ci date la possibilità. Scusi, ha appena detto che della legge italiana non ti interessa. Ma questa ragazzina vogliamo offrirle una vita migliore? Tutti vorrebbero un lavoro e una casa. Vogliamo offrire una vita migliore a questa ragazzina? Vogliamo andare alla scuola? L'abbiamo già parlato di questa cosa qui. Noi io e te ci conosciamo già, d'accordo? Allora, te dici, non ci fate integrare, tutti vogliono un lavoro e tutti vogliono una casa. Ho capito. Ma tu te lo puoi cercare un lavoro, no? Lo puoi fare. Io già cerco un lavoro. E che fai? E che fai? Per adesso tutta nero. Lavoro tutta nero. E che fai? Muratore, autista. Lavoretti vari. Vari. Basta che mi paga la giornata, porto a mangiare, a me a posto. Però tutta nero. Tutta nero. Eh. Che devo fare? Io voglio regolare. Ma lo sai che ci sono anche tanti non rom che sono in questa condizione qui? Sì, lo so. Pure italiani. Tutto il mondo ci sta. È una condizione comune. Ma però tu non mi puoi dire, giudicare, che io non mi voglio integrare. Ma io non mi voglio integrare. Io non mi voglio integrare. Io parlo. Però se non mi dai la chance. Io parlo di questa bambina. E a me del resto, fai come ti pare, non mi interessa. Mi interessa sta bambina. Eh va bene. Fatemi tornare dalla mamma. Fatemi tornare dalla mamma. Fatemi tornare dalla mamma. Allora signora. Ecco signora, sono di nuovo collegati. Adesso lei fra un po' andrà a dormire proprio qui, in questa tenda dove ci sono gli altri bambini. Possiamo un attimo muoverci. E qui chi dorme? L'altro suo figlio qui dentro. È proprio il piumone. Ecco, giriamoci a favore di camera. Così. Giriamoci a favore di camera. Ah ok. Comunque, insomma, vivono qui Paolo. Lei dice all'aria aperta, i bambini stanno bene e vanno avanti così. Sì, vuole aggiungere qualcos'altro? Vuole dire qualcosa? Mi... Non... Non so niente. Basta. Ho parlato prima per mia figlia e non so più niente parlare niente. E basta. Va bene. Spera di rivederla, di riabbracciarla. Grazie. Io spero, sì. Spero. Allora. Eh... Grazie a te Paolo. 9884, oppure chiamate da rete fissa per donare 2, 5 o 10 euro. Avete tempo fino al 27 ottobre. Io, invece, sono tanto contento che il mio tempo della termissione sia terminato. Buonanotte, ci vediamo giovedì prossimo alle 21.30, rete 4, Dritto Noveccio. Ciao.